Ciao a tutti ragazzi, qui è Archevi Parla, oggi siamo qui con un record, no non è proprio un record, è un fail, circa, non sarei proprio così sicuro, diciamo che è una partita che poteva andare 100 volte meglio, ma anche 100 volte peggio. Abbiamo quindi qui un round 52 in co-op su farm con Zeus e fino al 49 eravamo completamente in Flawless. Diciamo che inizialmente il nostro obiettivo appunto era fare un round relativamente alto, almeno un 50, e farlo completamente Flawless. Così è stato fino circa al 49, ma diciamo che dopo il 45, quando la Rega normale non fa veramente niente e soltanto la Mark II diventa qualcosa di leggermente efficace, i problemi sono diventati davvero tanti, essendo che la zona comunque è molto molto piccola e girare in due non è affatto ottimale, gli Altera erano praticamente obbligatori, infatti dopo il primissimo di Zeus, poi tutto in discesa, in tipo due round abbiamo fatti penso in tutto sette a testa, una roba del genere veramente improponibile e poi ricontinuare diciamo il setup e la strategia è veramente facilissimo perché ricomprare i perk ci vuole veramente 10 secondi e si continua a giocare, però chiaramente poi non è più Flawless. Mi ha detto comunque vabbè andiamo avanti, facciamo il round che possiamo. Abbiamo quindi giocato in tutto, se ricordo bene, due ore e un quarto, una roba del genere, il primo giorno e altre tre ore circa il secondo giorno. Come ho detto altre volte con i nostri problemi tempistici, specialmente con Zeus che lavora, è difficile giocare così tante ore tutte nello stesso giorno e anche per più giorni consecutivi col solito metodo di pausa di disconnessione, quindi specialmente io esco dalla partita Zeus è lost, rimane dentro con uno zoppo addormentato di Amp, io poi rientro, lui uccide lo zombie e possiamo riprendere dalla nostra partita, è un pochino facilitoso rientrare senza punti, senza perk e senza armi, ma essendo farm comunque il setup si rifà veramente in 5 minuti, quindi è soltanto leggermente fastidioso all'inizio, poi si risolve molto molto tranquillamente. Il problema grosso è stato il terzo giorno che già, io stavo avendo i miei primissimi problemi di cui ho parlato nel video precedente e poi in seguito comunque arriviamo alle 3 circa l'orario di giocare e lui mi scrive un bellissimo a vecchio disconnesso dal server, quindi sfortuna più totale, era soltanto teoricamente il terzo giorno, quindi era relativamente presto per quanto riguarda una disconnessione totale, solitamente capita se si ha fortuna il sesto o settimo giorno o se si ha sfortuna magari il quarto o quinto. Il terzo mi sembrava veramente molto molto presto e appunto avendo giocato soltanto qualche ora in un paio di giorni, in tutto circa 5 ore e mezza, mi ha fatto 52 round che non è affatto male, ma specialmente verso la fine con i trade e altre sfortune qua e là il tempo si è perso veramente tantissimo. A un certo punto abbiamo tradato per circa un quarto d'ora, infatti il round 52 che comunque era finito, mancava soltanto uno zoppo e durato circa 28-29 minuti perché quando si è senza Mark II si va veramente molto molto lenti, a terra molto probabili ed è davvero molto faticoso facendo anche tanti tanti trade, appena appare una bellissima e magica Mark II è tutto molto più facile, molto più preciso, fatto veramente come si deve perché la strategia è veramente perfetta per la rega Mark II che fino in realtà magari al 60 può ancora uccidere, poi qua ovviamente non c'è un pack a punch per massimizzare le munizioni e quando trovi una rega normale, anche soltanto che ce l'abbiamo in due, bisogna spammare caricatori su caricatori, dopo il 50 era troppo apparente quanto facesse schifo, mentre la Mark II ancora con 3-4 raffiche in testa faceva la sua sporca figura e uccideva se non una massa intera, tre quarti di massa, che non è affatto male e i colpi sono davvero tanti. Una rega normale a un certo punto 3-4 caricatori a testa ogni massa, quindi uccidi qualche zombie, poi o un altro trade, un altro trade e un altro trade ancora. Diciamo che per quanto volessimo fare record un pochino più particolari come First Room, alcune No Magic e robe del genere, a un certo punto mi hanno detto ma facciamo una partita classica relativamente seria, non volevo assolutamente replicare città perché la partita con Deja è stata davvero, non dico un disastro perché è andata molto bene, ma davvero molto faticosa, e infatti ho avuto qualche piccolo flash di tutti quei trade da 20 minuti anche qua su Farm, nonostante qua non ci sia il fatto della cassa che si sposta, anche se non c'è il pack a punch, si trova una rega relativamente in fretta, a parte per pochi momenti un pochino più sfortunati, siamo andati comunque avanti. Città è magari un pochino troppo dispersiva con due slot delle casse, anche due posti in cui girare e poi unire la massa, qua invece è un pochino più unico e bello compatto e non era affatto male. Poi alla fine avevano già fatto in realtà un 40 in circa due ore qualche settimana prima, ne avevano già fatto leggermente pratica su questa mappa, eravamo pronti per fare qualcosa del genere anche in co-op, per cui il primo giorno due ore e un quarto belle filate lisce, il giorno successivo tre ore, e se abbiamo potuto continuare a giocare forse altre tre ore avremmo raggiunto probabilmente magari un round 60 o qualcosa del genere, anche se ripeto ogni volta mezz'ora di round iniziava a diventare molto molto pesante, ma come sempre dipendeva molto dalla fortuna con le casse, le reagan, munizioni, instant, nuke, tutti questi drop, e come massimizzare un pochino tutta quella che era la strategia, quindi magari non perdere tempo andando a terra anche se è soltanto un minuto, ma un minuto qua, un minuto là, si può perdere comunque un petino di tempo. Ho dimostrato comunque che il metodo di disconnessione e riconnessione funziona abbastanza bene, sul momento Zers non riusciva a invitarmi su 360 ed eravamo leggermente nel panico, poi ho pensato, ma scusa, invitarmi sia al gruppo sia al gioco, come si può fare su 360 grazie a quella specie di doppio invito, e vediamo se funziona. Così ha funzionato, sono rientrato, è bello tranquillo. Diciamo che Black Ops 3 forse è leggermente più preciso e dà meno problemi, anche perché siamo su, tra virgolette, next gen, mentre la 360 dava i suoi primissimi problemi già ai tempi, figuriamoci adesso, ma i server un pochino hanno retto, anche se nuovamente soltanto tre giorni mi sembra davvero poco, non abbiamo giocato in realtà relativamente pochissime ore ogni giorno, quindi se dovessimo rifarlo magari in futuro, giocheremo probabilmente magari sei o otto ore entrambi i giorni, quindi tripliceremo teoricamente il tempo di gioco. In definitiva fare record sulle mappe sopravvivenza è sempre un'esperienza molto interessante e alternativa, perché alla fine i primi 30-40 round vanno veramente lisci come l'olio, anzi forse troppo veloci e troppo lisci, e dopo già il 40-45 dici, vabbè qualche problema si incontra, ma è ancora più che fattibile, si gioca tranquillamente, dopo il 50 è tutto completamente un disastro. Mi ricordavo la stessa cosa anche su città, quando si servono più e più Reagan davvero tante per finire un round, e se comunque in co-op, quindi il numero di zombie è veramente molto molto elevato, inizia a essere davvero un problema. Se in più ci mette magari una sfida come è stato il Flawless, quindi ogni minimo momento è davvero una disperazione totale, perché dici oh ma hanno tirato già 3 hit, il quarto potrebbe essere andare a terra, potrebbe essere red screen o qualunque altra cosa, è veramente un disastro. Ci sono stati alcuni momenti in cui Zeus si è incastrato ed è riuscito a scappare, è stato proprio un momento assurdo e incredibile, poi a un certo punto la terra definitiva è arrivata, e lì era davvero inevitabile. Però generalmente secondo me abbiamo giocato molto molto bene, in seguito sicuramente andremo a riprovare, nonostante sia pessimo ogni volta doversi fare non so quanti trade e cercare quante Reagan, è comunque divertente. Poi abbiamo intenzione di fare anche altri record su Black Ops 3 e forse qualcosina su Black Ops 4, purtroppo Black Ops 1 non permette una specie di disconnessione e riconnessione, si può comunque tenere uno zombie alla finestra, ma c'è sempre il fatto di due persone che tengono l'Xbox accesa, il tempo che va avanti, e almeno per adesso come sono i nostri orari e impegni, risulta molto molto complicato e molto molto faticoso, mentre qualche mese più avanti potremo rivalutare qualche partita leggermente più seria, leggermente più grossa e chiaramente meglio organizzata. Per finire ragazzi, dimostriamo un pochino di amore a queste vecchie mappe che comunque, come ho detto sempre, hanno un pelino il loro senso, per quanto siano molto piccole, molto semplici, una cassa, tutti i perk, e girare al centro della mappa, sono comunque molto divertenti e si può come sempre sfidare se stessi a fare un round davvero alto, nonostante abbiamo alcune armi che veramente non fanno più niente, perché come ho detto prima, una Mark II fino magari al 60, o addirittura al 70, può risultare efficace, ma quando invece spari una Reagan intera e hai ucciso soltanto tre masse di zombie, a un certo punto ne uccidi una o due, è veramente disperazione totale, perché a quei punti magari ci sono 30-40 masse di zombie, il che equivale a 30-40 Reagan. E nel nostro caso con i trade poteva capitare di o spegnere una massa con le MP, e quindi tutti quanti farsi i trade di Reagan molto tranquillamente, o altrimenti io tengo i zombie per Zeus, lui cerca l'arma nella cassa, ma alcuni zombie magari desponono, si muovono in maniera strana secondo lui invece che a me, era qualcosa di veramente molto molto confusionario, i momenti di panico ci sono sicuramente stati, specialmente per questa storia del flawless, però comunque come al solito è divertente fare il record in co-op, nonostante abbia sempre preferito fare il record in solo per il fatto della pausa, la tranquillità e chiaramente i meno zombie, ma ogni tanto qualche partita in co-op bisogna farla, e bisogna farla veramente seria. Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto, per chi se lo stesse chiedendo, ho assolutamente visto il 10.000 di Krups su Shinonuma, ma sto aspettando che finisca la sua partita per farci un video a riguardo, e qui intanto ho portato questa specie di mini record mio di Zeus, anche soltanto un pochino per passare il tempo, e anche per far vedere il gameplay, perché ce l'avevo salvato già da diverso tempo, e dovrei caricare anche la partita intera da mandare a Zombie World Records, specialmente per il flawless, perché per il resto la top 10 in co-op è molto molto competitiva, e sarebbe risultato troppo lungo, se non troppo difficile raggiungerla, magari in futuro ci si può ripensare sicuramente. Vi invito come sempre a seguire i miei social che trovate qui sotto in descrizione, quindi la pagina Instagram e il canale Twitch, vi lascio anche il canale Twitch di Zeus, che ogni tanto streama i suoi tentativi che fossero first room o partite un pochino più serie, aspettavi sicuramente tanti fail, tante bestemmie, tante parole bannabili da Twitch, infatti il fatto che lui sia ancora lì con un canale è molto molto strano, ma a quanto pare con lui le regole non si applicano. Noi come al solito ragazzi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, Alla